Cari amici, meglio prevenire che intervenire il titolo. Vorrei tornare solo un passo indietro, l'altro ieri vi ho riferito dello Stato della giustizia, poi ho ricordato a me stesso quello che sempre mi hanno detto i miei fin da bambino, meglio prevenire che intervenire. Allora un paio di punti, se per la ministra Cartabia ci sono troppi processi e carcere, eccolo qua, ecco il giornale, non è che troppi processi e carcere, è abuso del diritto penale. E beh, allora significa che qualcosa non va. In Italia, e la ministra lo sa perfettamente, è stata presidente della Corte Costituzionale, l'azione penale è obbligatoria. Allora, cambiata la norma. Lei sa come fare e nessuno meglio di lei lo sa. Ma non dica agli antibiotici di convincere con un sorriso i batteri a uscire dal corpo di un malato. Gli antibiotici sono medicinali utilizzati per debellare i batteri stessi e per prevenire la loro moltiplicazione. Non è il caso di imitare, per esempio, il falso storico che dice che Leone Magno nel 452 avrebbe fermato Attila sul Mincio solo facendogli vedere la croce e impedendogli di arrivare a Roma. Se si vuole ragionare seriamente, e purtroppo è un pezzo che ne vedo poca di serietà, per esempio, si rimetta l'educazione civica nelle scuole. Ve lo dico in un orecchio, si metta l'educazione stradale nelle scuole, si metta il comportamento che bisogna avere nella strada a bordo della macchina, del motorino, eccetera. Questo sì. Si insegna ai giovani a diventare uomini e donne seri con l'A. Una volta si chiamava educazione sessuale. No! Educazione sentimentale. Imparare ad amare per i giovani deve essere una cosa importantissima. Come dovrebbe essere importante per lo Stato insegnare, far insegnare il sentimento. Per esempio, una visita al mese, obbligatoria, nelle scuole, specie alcune scuole, negli ospedali, dove sono curati i tossici, le vittime dei femminicidi, le violenze vari, gli incidenti causati da alcol, droghe, follie varie. Insomma, se vogliamo una società migliore, questa è la strada. Guardate che se lo capisce anche Scappaccino, cioè il carabiniere semplice e pulito, mi pare perfino sospetto che non lo capisca chi ci rappresenta e ci governa. Grazie per la visione!